Musica Siamo qui in veste di ammasciatrice dell'AVSA stamattina proprio perché mi sono impegnata a provare avanti questo progetto verso le inglese, in cui lo compuntore metteremo qui, in tutte le scuole. Perché? Perché anch'io ho due bambine della vostra età, 12-13 anni, quando vedo la terza media, voi siete delle terze, giusto? Sì! E quindi un giorno, proprio pensando al loro futuro, mi sono chiesta quale sarà il loro futuro